Ok ragazzi proviamoci, in poche parole c'è questa ragazza che facendo una serie di passaggi poi si mette le dita nella gola e non viene il conato di vomito 1, 2, 3, 4, 5 Oh my god Oh my god In poche parole il video di quello ragazzo fa vedere che il sacchetto piccolo è lo stesso del sacchetto medio che è lo stesso del sacchetto grande delle patatine Qua come vedete è vuoto, quello grande è vuoto, secondo voi? Ok per ora la teoria è vera, questo qua sempre vuoto e lo svuotiamo in quello grande Questo significa che conviene prendere quelle piccole No one to hear my brain We'll be about to learn We're like gold teeth, grey goose trippin' in the bathroom Bloodstained, foggowns, trash in the hotel room, we don't care We're driving Cadillacs in our dreams But everybody's like custom, maybe back diamonds on your client piece Jeplains, islands, tigers on a gold beach, we don't care We are caught up in your love affair And we'll never be royal, royal Sapevi che se sei il più piccolo Della famiglia sarei molto probabilmente al funerale di tutti quanti Non me ne frega niente Non mi importa, basta, voglio dormire E pensa che essere brutti è solo giocare alla vita in modalità difficile Perché? Non ti ho chiesto niente Voglio dormire, per favore Probabilmente tra l'altro tu o qualcun altro lo starete leggendo Guardando questo video dello stesso esatto momento Sono dovuto pure alzare per sentirti Dai, continua A proposito di dormire Di fingere di dormire per addormentarti Me ne vado Posso andare a dormire ora? Il mio l'ho fatto Torno domani per altri ragionamenti, eh A posto A domani allora, dai Buonanotte Uno Come è possibile che hai vinto se abbiamo appena iniziato il gioco? Hey, Titi me pregunto Si tengo mucha novia Mucha novia Andrea Ah, quindi è tutto il tempo che sei al telefono Cosa? No Ehi, ricordati di lavare i piatti, eh mi raccomando Pfff Ehi, ricordati di lavare i piatti, eh mi raccomando Grazie a tutti 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 Grazie a tutti